Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video questo sarà il video ce n'è per tutti i mesi del mese di marzo in collaborazione con Natalia un bacione cara Natalia è una ragazza con la quale io ho già collaborato vi lascio qui il link del vecchio video in collaborazione e anche naturalmente il video il link del suo video e del suo canale ce la posso fare Natalia è una ragazza brava, bella e simpatica vi consiglio assolutamente di andare a vedere i suoi video se magari ancora non la conoscete però mi sembra impossibile tutte le domande le troverete giù nell'info box del solito tag abbiamo eliminato due domande c'è quella sulla relazione del mese e scuola lavoro perché per entrambe diciamo rispondere sempre che va tutto bene ogni mese è abbastanza inutile e più che altro si spera che ogni mese vada bene iniziamo subito io guarderò in basso perché ho le domande scritte sul computer che sta qua giù prima domanda canzone del mese canzone del mese è per sempre di Liga Bue una delle ultime canzoni uscite con l'ultimo album devo dire che è una canzone che mi piace molto rispetto alle altre dell'album diciamo che quest'album non è che mi sia piaciuto tantissimo ma gli ultimi non mi hanno fatto impazzire questa canzone invece mi piace tantissimo perché la sento più vicina a me le do un determinato significato seconda domanda profumo del mese il profumo del mese è questo profumo di Moschino lo Chic Petals che mi è stato regalato dalla mamma di mio fidanzato per Natale sono 30 ml non ho idea del costo ed è questo profumo che ha un packaging fantastico molto molto carino e poi ha un profumo veramente delicato primaverile dura anche tanto mi piace molto io con i profumi sono molto difficile però devo dire che due profumi mi hanno regalato l'oro e due profumi mi sono piaciuti tantissimo quindi diciamo che più o meno sanno i miei gusti poi terza domanda film preferito del mese film preferito del mese è Her uno degli ultimi film usciti nelle sale un film molto particolare di cui io consiglio la visione assolutamente in lingua originale per poter apprezzare completamente il film ma soprattutto la voce di Scarlett Johansson che oltre ad essere sexy ha anche una voce sexy però porca miseria diciamo l'autostima si distrugge però è un film molto bello e ben fatto quinta domanda accessorio preferito del mese l'accessorio preferito del mese è questo orecchino bellissimo preso da Tiger pagato 2-3 euro veramente una sciocchezza è un orecchino con una pietra nera su base dorata ed è veramente molto carino perché anche avendo i capelli lunghi ricci e adesso anche neri l'orecchino riesce a risaltare e non è eccessivo a me gli orecchini troppo grandi non è che piacciono moltissimo lui invece è un'ottima via di mezzo il cibo del mese il cibo del mese è l'hamburger a me piace tantissimo l'hamburger soprattutto quello di tacchino o quello con lo speck sia da solo con le verdure l'hamburger è anche facile da preparare molto veloce quindi diciamo che lo mangio molto spesso e mi piace tantissimo sesta domanda scarpe del mese scarpe del mese sono queste ballerine semplicissime pagate 9 euro prese in un negozio che si trova su via le Marconi che si chiama Jessica ne aveva parlato anche Gnappetta in un suo video e da quanto ho capito si può trovare anche in un'altra zona ve lo scrivo qui perché adesso non lo ricordo devo andare a rivedere il video settima domanda make up del mese il make up del mese è fondamentalmente questo senza il rossetto rosso ma un make up che va molto sul marrone sul bronzo l'avevo fatto anche nel video mi preparo con voi ve lo lascio qui casomai voleste vedere come l'ho realizzato ma in quel video parlo proprio tanto un make up che mi piace tanto sia la mattina che la sera la mattina però senza questo finta riga di eyeliner fatta con un ombretto nero pettinatura acconciatura del mese capelli sciolti o semplicemente legati perché mi danno fastidio sciolti sciolti più o meno in questo modo tutti da una parte fermati con qualche forcina nona domanda smalto del mese che per me sarà gel del mese è questo qui sul viola con sull'anulare dei glitter che vanno sul sul fucsia mi piace tantissimo anche se prima di iniziare il video mi è partita un'unghia e poi c'è il medio che sta per partire anche lui la mano destra è sempre quella che si distrugge prima parola escamazione del mese non non me lo ricordo non mi viene in mente sinceramente non non me lo ricordo manda figura di merda del mese figuraccio del mese a parte che io ne faccio tante però l'ultima che mi viene in mente stavo passeggiando a Trastevere con mio fidanzato mio cugino e la fidanzata a un certo punto stavo per cadere mi sono appoggiata su un povero cristiano che stava passando e un altro da dietro che mi stava per salvare diciamo io non ho molto equilibrio sono caduta tantissime volte mi sono fatta male tantissime volte le mie amiche mi prendono in giro diciamo che da una parte fanno anche abbastanza bene perché sono veramente ogni tanto ridicola per come riesco a cadere cosa più bella del mese devo dire che ultimamente siete cresciute tantissimo io ne sono strafelice perché fondamentalmente vuol dire che quello che faccio vi piace ed è una grande soddisfazione io non faccio video perché voglio degli iscritti voglio tante visualizzazioni voglio che le aziende mi mandino le cose gratis io lo faccio perché mi diverto è una valvola di sfogo è un momento in cui non penso e vedere che ci sono tante persone che mi seguono e anche i commenti che lasciate è una cosa bellissima quindi io vi ringrazio tutti e questa è la cosa più bella del mese e per fortuna non c'è la cosa più brutta del mese devo dire che diciamo questo mese non è successo niente di brutto ultima domanda descrivi questo mese con una parola piatto sì il mese di marzo è stato piatto un mese noioso in cui c'è stato troppo caldo per i miei gusti in cui c'è stato dei bellissimi giorni in cui pioveva e faceva freddo però nel compenso un mese abbastanza piatto in cui non è che ho fatto qualcosa di particolare a parte andare all'outlet di pupa niente di così interessante e niente ragazze questo era il tag ce n'è per tutti i mesi spero che vi abbia tenuto compagnia se l'avete fatto anche voi se volete rispondere alle domande lasciatemi tutto giù nei commenti e noi ci vediamo col prossimo video ciao